La grazia di Dio non si confonde con ciò che ha sapore di cose terrene. Preziosa, oh figlio, è la mia grazia. Essa non tollera di essere mescolata a cose esteriori e a consolazioni terrene. Perciò devi buttar via tutto ciò che ostacola la grazia se vuoi che questa sia infusa in te. Procurati un luogo apartato. Compiaciti di stare solo con te stesso. Non andare cercando di chiacchierare con nessuno. E fondi invece la tua devota preghiera a Dio per conservare compunzione d'animo e purezza di coscienza. Il mondo intero, consideralo un nulla. Alle cose esteriori, anteponi l'occuparti di Dio. Che non potresti attendere a me e nello stesso tempo trovare godimento nelle cose passeggere. Occorre allontanarsi dalle persone che si conoscono e alle quali si vuole bene. Occorre tenere l'animo sgombro da ogni conforto temporale. Ecco ciò che il santo apostolo Pietro chiede in nome di Dio. Che i seguaci di Cristo si conservino in questo mondo come forestieri e pellegrini. Quanta sicurezza in colui che muore senza essere legato alla terra dall'attaccamento per alcuna cosa. Uno spirito debole, invece, non riesce a mantenere il cuore tanto distaccato. L'uomo materiale non conosce la libertà dell'uomo interiore. Che se uno vuole veramente essere uomo spirituale, egli deve rinunciare a tutti, ai lontani e ai vicini. E guardarsi da se stesso più ancora che dagli altri. Se avrai vinto pienamente te stesso, facilmente soggiocherai tutto il resto. Trionfare di sé medesimi è vittoria perfetta. Già che colui che domina se stesso, facendo sì che i sensi obbediscano alla ragione e la ragione obbedisca in tutto e per tutto a Dio, questi è, in verità, vincitore di sé e signore del mondo. Se brami elevarti a questa somma altezza, è necessario che tu cominci con coraggio, mettendo la scure alla radice, per poter estirpare totalmente la tua segreta inclinazione contraria al volere di Dio, volta a te stesso e a tutto ciò che è tuo utile materiale. Da questo vizio, dall'amore di sé, contrarissimo alla volontà divina, deriva, si può dire, tutto quanto deve essere stroncato radicalmente. Domato e superato questo vizio, si farà stabilmente una grande pace e una grande serenità. Ma sono pochi quelli che si adoprano per morire del tutto a se stessi e per uscire pienamente da se stessi. I più restano avviluppati né sanno innalzarsi spiritualmente sopra di sé. Coloro che desiderano camminare con me senza impacci debbono mortificare tutti i loro affetti perversi e contrari all'ordine voluto da Dio senza restare attaccati di cupido amore personale ad alcuna creatura.